È stato aggredito da cinque giovani, uno dei quali è armato di mazza da baseball e è rimasto ferito, ma all'arrivo dei medici del 118, giunti sul posto con un'ambulanza, ha rifiutato il ricovero in ospedale e è caduto nella notte a luna circa in un pub leccese sul viale degli studenti. La vittima è un 27enne leccese che all'interno del locale era in compagnia di alcuni amici. Il gruppo ha fatto eruzione nel pub, ha aggredito il malcapitato lasciando lo sanguinante sul posto. Il tutto è durato pochi minuti e il gruppo di aggressori si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. All'arrivo degli agenti delle volanti, intervenuti sul posto dei ragazzi, non c'era più alcuna traccia. La polizia sta cercando di identificarle, ascoltando le testimonianze dei titolari e delle persone presenti in quel momento. La vittima non ha voluto sporgere denunce, è molto probabile che conoscesse i suoi aggressori e che fosse al corrente del motivo del pestaggio.